Si chiama Tesoro d'Italia, è l'esposizione artistica, la più grande pinacoteca italiana nel cuore dell'Expo. A presentarla Vittorio Sgarbi, il deus ex machina di questa intuizione, portare l'arte, il meglio dell'arte italiana nelle sue più ampie e variegate sfaccettature, tra tesori conosciuti e gioielli nascosti nel cuore dell'esposizione mondiale. Tutto questo a partire dal 22 di maggio fino alla conclusione dell'Expo. Capolavori che sono stati presentati dallo stesso Vittorio Sgarbi insieme ad Oscar Farinetti, patron di Italy, che ha ospitato questa rassegna, che ha voluto lanciare questa rassegna pensando al binomio. Calosse e Agatossi, il bello e il buono, quello che l'Italia può offrire al mondo, ovvero il proprio passato, l'arte, ma anche quella contemporanea, e il presente e il futuro, attraverso le eccellenze gastronomiche. E così anche l'Umbria fa bella mostra di sé attraverso le opere quattrocentesche di Perugino, così come quelle del Novecento, firmate Alberto Burri. Ma non manca anche uno spazio dedicato a Gualdo Tadino, con tre gioielli prestigiosi, come la preziosa tavola dipinta su fondo oro di Matteo da Gualdo, raffigurante l'albero genealogico della stirpe di David, metà del Quattrocento, e due magnifiche maioliche a lustro della società Ruboli, firmate dall'Eugubino Aldo Aio, illustrate dai fratelli Lorenzo e Alberto Ruboli, negli anni venti del secolo scorso. Una presenza fortemente voluta dal polo museale di Gualdo Tadino e supportata dall'amministrazione comunale. Consegnare al mondo, in un'esposizione universale, la storia della città di Gualdo Tadino è il massimo che un direttore di un museo può chiedere. Poi Vittorio Sgarbi non ha bisogno di presentazioni, è un progetto incredibile perché ha portato 200 opere da tutta Italia e non sarebbero bastati due, tre, quattro anni per visitarle tutte nelle varie regioni d'Italia. Motivo d'orgoglio non solo per me, per la città, ma credo per l'Umbria. Non solo perché siamo all'interno dell'esposizione universale, ma anche perché il numero uno dell'arte italiana, che è Vittorio Sgarbi, ha voluto fortissimamente che quest'opero fosse qui. L'Umbria è una regione che è più che rappresentata in questa mostra, ma il bello è avere proprio l'equilibrio di questa completezza, più di 200 opere di tutti i tempi e di tutte le terre. Che cosa può essere Expo e questa esposizione Tesoro Italia per il nostro paese? È una mostra importante per le cose che si vedono. Per l'Expo è la possibilità che una città in cui si viene, come uno va a vedere un'altra città, abbia anche il museo che è la storia. E quindi la storia d'Italia qui è in qualche modo sintetizzata attraverso le opere e i capolavori che avete visto. Devo dire che a guardo te la personalità della direttrice è tale che, così come me l'ha proposto, e io ovviamente, ci sono diciamo metà delle opere che sono state proposte e io le ho ovviamente accettate. Questa, oltre a questa proposta, l'avrei anche chiesta. È una coincidenza singolare, tanto è importante l'opera, fra quello che lei desiderava e quello che l'ho voluto anch'io.